Franco Rolandi, una conferenza stampa vasto, perché? Noi abbiamo voluto denunciare l'anomalia che accade nella società regionale di trasporto Cerella, una società a prevalenza pubblica, tant'è che il pacchetto azionario di maggioranza è detenuto dalla società regionale tua. In questa società, nonostante alcune denunce effettuate da rappresentanti sindacali della nostra organizzazione, che hanno denunciato aspetti molto gravi attinenti alla sicurezza dell'esercizio, ma anche alla qualità del servizio offerto all'utenza, per tutta risposta ci siamo ritrovati ad avere dei provvedimenti disciplinari inoltrati nei confronti proprio dei rappresentanti sindacali che hanno effettuato questa denuncia. Addirittura l'anomalia più importante è che questi provvedimenti disciplinari sono stati addirittura controfirmati dal presidente della società Cerella, che è il presidente di un organo deliberante, non è senz'altro il direttore dell'esercizio. Durante la conferenza si è parlato di sicurezza, ma anche di una riforma del trasporto regionale. Sì, la riforma del trasporto pubblico locale in Abruzzo è noto che abbia penalizzato in modo specifico il territorio del Vastese, sul quale territorio incide per l'appunto la società Cerella. In qualche tempo fa, prima che si arrivasse alla definizione della riorganizzazione dei servizi di trasporto, c'era stato assicurato, perlomeno la politica regionale aveva assicurato ai lavoratori di Cerella una prospettiva diversa. I lavoratori di Cerella, ma una società regionale che opera nel Vastese, c'è la possibilità di rientrare nell'operazione in house all'interno della società tua. Poi invece le cose sono andate diversamente e quindi il futuro anche per i 60 circa lavoratori di Cerella appare alquanto difficile. Un altro tema sempre legato ai lavoratori è quello delle assunzioni. Come mai si assume senza concorsi? Questa è una bella domanda che vorremmo rivolgere al Presidente Pollutri e anche all'intero CDA di Cerella e se vogliamo anche al Presidente di Tua, perché nelle società pubbliche e nelle società regionali normalmente si assume tramite bando di concorso ed evidenza pubblica e quindi anche per l'assunzione di personale dipendente all'interno di Cerella si dovrebbe attuare la stessa dinamica. Invece qui le assunzioni avvengono per chiamata diretta. Tra l'altro si assume anche personale amministrativo, il che anche questa costituisce un'anomalia perché di recente abbiamo assistito ad una fusione delle tre società regionali di trasporto che hanno determinato anche esuberi soprattutto nel settore amministrativo e avere un'altra società regionale che invece assume personale amministrativo, peraltro senza concorso, ci sembra alquanto anomalo. Come ci sembra anomalo? Che sempre una società regionale di trasporto non disponga ad esempio di un regolamento avanzamento e promozione sia per le assunzioni di personale ma anche per l'avanzamento del personale. Un'altra anomalia della regione Abruzzo è quella di non aver avuto un assessorato ai trasporti seconda voce al bilancio regionale. Sì, questo è un qualcosa che attiene anche un comunicato stampa che abbiamo proprio prodotto un paio di giorni fa. Nel denunciare la politica fallimentare della regione Abruzzo sul comparto dei trasporti siamo partiti proprio da questa anomalia che abbiamo denunciato sin dall'inizio da quando si è insediata questa giunta regionale. Cioè il fatto di non aver garantito per una voce di spesa fondamentale del bilancio regionale, stiamo parlando della seconda voce di spesa del bilancio regionale, ovvero i trasporti, non aver garantito un assessorato ai trasporti ci sembra alquanto anomalo. E purtroppo poi i risultati negativi li abbiamo denunciati non soltanto attraverso una serie di operazioni che abbiamo ritenuto assolutamente fallimentari ma anche nei risultati effettivi del comparto che sono assolutamente non soddisfacenti.